Ciao a tutti e benvenuti sul canale YouTube di Oram, siamo ad Eikma 2023, questo è lo stand Hickson, io sono certo che una giacca così non l'avete mai vista. Sì, perché qui ad Eikma Hickson presenta una novità assoluta, la giacca Etna. Una giacca, o sarebbe meglio dire, più giacche, perché questo è veramente un capo, possiamo dire due in uno. Vedete che la particolarità di questo modello Etna è la mantella superiore removibile, che trasforma di fatto la giacca da una giacca completamente laminata a una giacca traforata. Infatti gli studi di Eikson hanno rivelato come la parte in cui si canalizza la maggior parte dell'aria quando andiamo in moto sia quella superiore del busto, perché ovviamente davanti abbiamo il serbatoio, abbiamo il fanale e abbiamo il parabrezza. Quindi ha studiato appunto questa giacca Etna che si può trasformare veramente in pochi secondi e andando ad avere un capo che, con mantella inserita, è ovviamente completamente impermeabile e traspirante. Pensate che un capo, per potersi definire impermeabile, deve reggere una colonna d'acqua superiore alle 1300 unità. Il valore raggiunto da questo modello Etna è di ben 26.000 unità di colonna d'acqua, con una traspirabilità di 20.000, quindi un dato veramente incredibile che fa sì che la giacca non tema veramente nessun tipo di intemperie. Troviamo ben 18 tasche, alcune veramente di notevoli dimensioni come quelle nella parte posteriore, un cappuccio staccabile con sistema di estrazione dell'aria perché non si gonfi e una particolarità molto interessante è la tasca impermeabile sul davanti che grazie al sistema Feedlock si richiude da sola. Vedete che grazie al magnete è sufficiente togliere le mani e si chiude completamente da sola. La giacca Etna è una giacca a tre strati, abbiamo anche un'imbottitura staccabile con una speciale ovatta racchiusa in queste speciali celle che contribuiscono a distribuire meglio il calore del nostro corpo e a tenerci al calduccio anche nei climi più rigidi. Completano la giacca che è certificata, ovviamente parliamo di un capo tecnico protettivo da moto, delle protezioni riciclabili e addirittura lavabili, questo perché riescono a reggere le temperature più estreme e pensate sono fatte per essere flessibili nelle due dimensioni, quindi per seguire al meglio il corpo durante i movimenti sulla sella. Questa giacca inaugura una nuova era per Ixon, infatti non è studiata solo per l'utilizzo in moto, ma anche ad esempio per chi vuole utilizzarla a sciare o in altri contesti in cui è importante avere un capo impermeabile e decisamente resistente. In attesa di vederla nel nostro showroom potete scoprire altri prodotti della gamma Ixon e tanti altri brand di abbigliamento accessori moto nello showroom di Modena in via Emilia Est 935, oppure visitate oramonline.it per scoprire tutte le nostre promozioni dedicate. Appuntamento al prossimo video sempre con Ora e Always Riding, ciao! Grazie a tutti!